Il Traparino si ferma più dopo aver conquistato l'ottava vittoria consecutiva contro il Cesena al Provinciale, adesso crede seriamente alla promozione o meglio alla possibilità di arrivarci tramite i play-off, soddisfatto il tecnico Granata, Serse Cosmi. Dopo otto partite come queste, dopo una prestazione come questa, partirei a tutto quello che di straordinario sta facendo la squadra e quello che sta facendo è una cosa sensazionale. Noi ci siamo allenati sempre seriamente, insomma voglio dire poi le caratteristiche di alcuni giocatori che ci sono, esistono, sono state allenate bene e come ho detto, come avevo preventivato purtroppo nei momenti di difficoltà quando tanti giocatori stavano fuori, ne cito uno Barilla o Torregrossa, insomma giocatori che sono stati fuori mesi, non giorni, mesi. Ho detto che se le cose andavano in una maniera positiva l'avremmo ritrovati nel momento decisivo più freschi degli altri.